Ora ci c'era un remoratore, uno che soffrede, che è così bella, assolutamente. E c'era una volta il capo e stava cadendo un mattone, quello che c'è che ci fa, si sposti! E poi quello che c'è che lo vede ritornare con tantissimi soldi e una percola. Ehi, come hai fatto? Ehi, come hai fatto? Chi, chi, chi dice, niente s'abbattare dal capo, ora, ora ci prova anch'io. Mi fa cadere apposta un mattone e gli dice, mi, 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 mi. In effetti il mattone cade sopra il capo, minchiamoci!